Ciao, oggi vi parlo di questa variazione sul tema Timeline, un gioco di carte ormai famosissimo, stavolta ambientato nell'universo di Star Wars. Vi parlo quindi di Timeline Twist, gioco di Frederick Henry per 2-6 giocatori, una durata di circa 20 minuti a partita, edito da Asmodee. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Per ciascuna partita, delle 100 carte presenti nel mazzo, ne utilizzeremo solamente 36. Si inizia quindi con un evento al centro del tavolo con già rivelato il suo progressivo. In questo caso Palpatine rivela di essere Darth Sidious. Ora ciascun giocatore, tra le 4 carte che ha davanti, dovrà sceglierne una da piazzare nella linea temporale. L'evento dovrà essere precedente o successivo, ma dovrà cercare di non lasciare troppi spazi, dopo vedremo il perché. Nel mio caso specifico decido di utilizzare questo, i cloni ricevono l'ordine 66. Giro la carta, mi dice che è 26, quindi successivo, viene piazzata qua. Pesca una nuova carta e tocca al giocatore successivo. Questo giocatore sembra abbastanza sicuro del fatto suo e decide di giocare questa carta. Obi-Wan sconfigge il generale Grievous. Giriamo la carta, 22, perfetto, viene piazzata appena prima della carta che avevamo già in tavola. Pesca una nuova carta e tocca a quello successivo. Quest'altro giocatore decide di mettere in tavola Han Solo per correre la rotta di Kessel con il Millennium Falcon, che ha il numero 34. C'è un buco di 8 spazi, speriamo che non dovremo pagare questo prezzo. Sempre nel corso della partita vediamo cosa succede se questo giocatore gioca un giovane Han Solo, conduce una vita di crimine con i White Worms. Questo è il numero 31, quindi si piazzerebbe tra il 26 e il 34. Fortunatamente abbiamo uno spazio in questo gap temporale, può ripristinare la sua mano, ma ora tocca a me. In questo caso ho un problema perché vorrei scartare questa carta perché so che andrà in questo spazio. Ovviamente posso cercare di giocare, posso scartare quest'altra carta, ma ai fini della spiegazione vediamo cosa succede. Decido di provare a giocare questo Leia e Luke Skywalker. Giro la carta, è il numero 29, in questo caso dovrebbe inserirsi anch'essa in questo gap, ma non posso farlo. Pertanto la carta mi torna in mano girata, ma la tengo girata verso l'alto in questo modo qua. Ora l'unica chance per liberarmi di questa carta è poterla scartare. Si continuerà a giocare così fino a quando il mazzo di pesca e tutte le carte davanti ai giocatori non sono state giocate. A quel punto si calcola il proprio punteggio. Due punti per ciascuna carta piazzata correttamente, un punto per ciascuna carta piazzata a fianco della linea temporale e meno un punto per ciascuna carta che è stata scartata nel corso della partita. Si confronta il punteggio con questa tabella per sapere com'è stata la propria performance. Diciamo che a livello di regolamento non c'è moltissimo da apprendere. Si tratta di dover giocare una carta nel proprio turno per cercare di metterla il più vicina possibile al lato più alto o al lato più basso della timeline che si sta formando al centro del tavolo. Come avete visto però le cose non sono affatto semplici. Beh, innanzitutto c'è sicuramente da avere una competenza nei film di Star Wars. Questo perché sono film magari usciti dopo ma che si riferiscono a periodi antecedenti oppure un qualcosa che si inserisce in mezzo, ci sono delle parti in contemporanea. Insomma, innanzitutto cercate di fare ordine e ciascuna carta cominciate a inserirla perlomeno nel film corretto. Da questo punto di vista il fatto che siano fotogrammi tratti dai film stessi aiuta tantissimo. La descrizione in alcuni casi potrebbe fuorviarvi o in alcuni casi a me non ha acceso la scintilla giusta ma guardando il fotogramma ho capito istantaneamente dove ci stavamo piazzando. L'altra cosa poi da valutare molto bene è come sono piazzate le vostre carte all'interno della timeline. Ne avete di vicine o forse è meglio scartare? Attenzione perché lo scarto non è necessariamente un demerito, a volte è anche un modo per evitare una disfatta totale. Vi faccio un semplice esempio. Se voi avete quattro carte molto distanti dalla timeline perché magari sono proprio all'inizio della timeline oppure proprio alla fine fine, comunicatele ai vostri compagni di squadra. È incoraggiatissimo il parlare al tavolo altrimenti non ce la farete mai. Quindi dite non riesco a piazzare le carte ma soprattutto non posso scartare. Questo è importante perché se tocca a voi voi siete obbligati a giocare una carta e se la carta si può piazzare rimarrà lì. Solo che fare un salto da 40 fino a 91 non è una cosa molto sensata. Quindi non potete scartare benissimo. Gli altri vostri compagni di squadra cercheranno di scartare carte dalla loro mano in modo tale da cambiare il simbolino nel mazzo di scarti. A questo punto voi potrete liberarvi di una carta molto pericolosa, prendere una nuova e tirare almeno il fiato per un giro di tavolo. In ultimo fate attenzione bene a quegli spazi a lato. Di base vengono utilizzati perché il mazzo di pesca potrebbe essere impietoso. Magari avete piazzato il 41 o il 43 e dopo un po' vi arriva il 42. In quel caso vi aiuta ad avere comunque uno spazio e non sprecare uno scarto. Ma attenzione c'è una regola che dice che se volete potete piazzare due carte all'interno del vostro turno. Dovete dichiararlo e quindi piazzerete due carte. Questo può aiutarvi se avete due carte che siano molto vicine fra di loro. Sempre comunicando con gli altri se ritenete tutti che quelle due carte siano praticamente in sequenza piuttosto che lasciare un gap fra le vostre carte e quelle degli altri giocatori al tavolo piazzatene due di seguito. In questo modo aiuterete gli altri, farete girare più velocemente il mazzo e lascerete libero a quella colonna laterale. Diciamo quindi che se cercate un bel twist appunto sul gioco di timeline questa modalità cooperativa è decisamente interessante. Il fatto che sia accattivante per tutti gli appassionati di Star Wars può sicuramente aiutare anche ad attrarre al tavolo magari qualcuno che non è molto propenso al mondo del gioco da tavolo perché ha un tema su cui si sente ferrato. Attenzione perché se siete tutti super appassionati di Star Wars la partita potrebbe durare delle ore solo perché per ogni frame dovrete raccontare le battute, cercare di fare tutti i vari ragionamenti e quindi riracconterete tutta quanta la saga di Guerre Stellari. Bene, con questo vi saluto con un ciao e alla prossima! Prima di salutarci vi segnalo che c'è comunque la possibilità di giocare nella modalità classica competitiva, quindi ogni giocatore dovrà piazzare le sue carte all'interno della timeline cercando di liberarsi di tutte quelle che ha davanti e nel caso di un errore ne pescherà una nuova. Potete viceversa applicare lo stesso regolamento ai timeline che già possedete, insomma usate questo twist con saggezza. Detto ciò iscrivetevi ai miei canali Telegram, Instagram ma soprattutto questo qui di YouTube così non vi perdete niente di recensione in minuto e trovate tutto in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche dei bei link e codici sconto per dare vantaggio a voi e sostenere il progetto recensione in minuto. Ciao ne!